La Ronda Ghibellina non sarà più la stessa senza lui. Se ne è andato prematuramente dopo un malore a Renato Menci, colonna portante della manifestazione castiglionese, corsasi anche in tempi di covid con molto coraggio e grande organizzazione. Si era sentito male ad inizio settimana ed era stato trasferito d'urgenza al Policlinico Senese delle Scotte, dove è morto nelle scorse ore, lasciando stupiti gli amici della Ronda Ghibellina Trail che aveva fondato e per la quale stava lavorando all'edizione 2025. Castiglionese, membro attivo del rione di Porta Romana per il quale si era più volte vestito e di cui era stato anche vicepresidente, Renato Menci era molto conosciuto ed apprezzato. Nella serata di ieri, visto il consenso alla donazione espresso in precedenza, è stato eseguito l'espianto degli organi che potranno così permettere una vita migliore a persone che stavano aspettando. Un lutto gravissimo per Castiglion-Fiorentina.